Ben tornati a tutti. Oggi è venerdì, 3 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Segno fortunato. Sfera di cristallo col trigono d'acqua. Super favoriti da un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la Luna, il Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno, percepite a pelle, oltre ai sensi fisici, le vostre impressioni si rivelano sempre esatte. Ideale per un viaggio d'affari, per una creazione artistica o per un lavoro artigianale. Se avete preso ferie e vi state godendo le meraviglie del Sud, sarà la vostra isola felice e tiepida, il faro acceso nella nebbiolina d'autunno, insomma un giardino edenico, ovviamente per due. Filo conduttore il sentimento, colorato di romanticismo e poesia. Sogni significativi densi di messaggi da valutare con attenzione, il vostro cuore sa anche ciò che la mente non riconosce. Novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il Sole, non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Lasciate che le vostre ansie non ricadano sulle persone che amate e vi circondano, non avete da fare altro che sopportarle traducendole, per questo, in tanti piccoli gesti d'amore. Sopportare le proprie ansie e le proprie preoccupazioni è già un grande gesto d'amore. Dovete ammettere che state commettendo alcuni errori, è solo grazie al favore di Giove e della Luna che le conseguenze dei vostri errori sono omettigate. Provate a ragionare in modo diverso e più concreto. Prendete appuntamento per tempo con chi vorrete chiarire questioni mai risolte o semplicemente affrontarle per risolverle. Contatti con medici e avvocati. Le follie in amore si sa sono sempre concesse. E questo non è certo per voi il momento di prendere le cose sul serio. Divertitevi. Avrete il vostro da fare per calmare la persona amata a causa della sua irritazione per alcune delle vostre amicizie che in passato hanno criticato le vostre scelte e messo in discussione il rapporto con chi amate. Pazienza e tanta diplomazia. Chi può si conceda un periodo di riposo e cerchi di progettare una vacanza al più presto, anche se non vi sembra il momento adatto tuttavia sarà bene pensarci con largo anticipo. Ottime prospettive per compiere scelte giuste e decisive per il vostro futuro. Se vi hanno proposto qualcosa in questo ultimo periodo, meditate bene la scelta da fare e fatela al più presto. Avrete bisogno di riposo, rilassatevi e condetevi una vacanza o, in alternativa, una serata spensierata lontano dai vostri problemi. Siete oltremodo polemici, datevi una buona regolata e siate più tolleranti e meno esigenti. Un team favoloso e di tre pianeti vostri signori, Sole, Mercurio e Marte che occupa il vostro segno vi apre a una giornata radiosa, specie se festeggiate il vostro compleanno tra pochi giorni. Il momento positivo è in realtà destinato a durare per diverso tempo, costituendo una base concreta per tutte le realizzazioni che per voi stanno per avvenire. Nettuno, Dio dell'esperienza mistica, in splendido aspetto dai pesci, vi predispone felicemente alla spiritualità, se vi avvicinate alla devozione cattolica del ricordo dei defunti. Se invece avete invece una formazione laica, è Saturno che vi stimola a migliorare voi stessi. In special modo, tutto questo se siete nati proprio in questi giorni, dal 14 al 18 novembre. Compleanno introspettivo, misterioso, magnetico, magico, con il sole nel segno vi sentite protagonisti di un film, imperniato sui misteri della psiche, della parapsicologia, della storia antica. Amore ed Eros. Basta pensare alle dolci fantasie della Luna e agli abissi del subconscio, sorvegliati da Saturno e da Nettuno, per valutare la portata dei vostri sentimenti e dei desideri più segreti. Se una storia inizia ora, parte sotto i migliori auspici in un'atmosfera rarefatta e idealizzata, ma non priva di contatti con la realtà, ed è così che deve essere altrimenti il sogno finirebbe subito. Plutone e Venere aiutano a far migliorare e far star bene le durevoli relazioni d'amore per i nati della prima e terza decade. E la forza dei sentimenti autentici appare pure vincente nel caso abbiate un'una relazione d'amore avviatasi da poco tempo. Il vostro carattere passionale trova il modo di vivere le emozioni nel modo più congeniale, avendo al vostro fianco una persona che vi riempie mente e cuore. Lavoro e denaro Se per affari partite e tornate di continuo, questa settimana si sta rivelando non diversa da molte altre, uno stressante andi rivieni per chiunque, ma non per voi che in treno vi perdete a fantasticare e in aereo divorate volumi di letteratura. Meglio ancora se la partenza di oggi non riguarda il lavoro, ma la vacanzina tanto sospirata in qualche sito storico, tutto da esplorare. In valigia solo impermeabile e tante belle guide illustrate, da cui attingere informazioni e dritte. Una serie di progetti prende il loro avvio a partire da questo momento. Ritornate alla vostra scrivania in ufficio o nel luogo dove svolgete l'attività concreta, ricaricati dal clima del dopo-festività. Benessere Un esame clinico che vi mandava in fibrillazione si conclude felicemente con un esito rassicurante. Del resto era prevedibile, grazie a uno stile di vita sano e razionale, niente fumo, fritti, alcolici e un'attività fisica moderata, non c'è nulla da temere. Anche l'ereditarietà familiare promettente, la bisnonna ha superato i cento anni. Per lei, preparativi in vista di un viaggio d'affari o un meeting aziendale. Onorate di essere le prescelte per far da tramite ai vertici, fate o ricevete visite da persone interessanti che hanno molto da insegnarvi. Per lui, anche se siete alle prese con esami e interrogazioni che vi tengono sui libri anche la notte, studiate volentieri, scoprendo nuovi interessi e argomenti da approfondire. Colore delle emozioni, blu mare. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.